Il cacciatore di comete è il racconto della mia esperienza di vent'anni sulla missione Rosetta, la prima e unica finora missione della storia dell'esplorazione spaziale che ha raggiunto il nucleo di una cometa, è entrato in orbita attorno a questo nucleo per più di due anni, a distanza di pochi chilometri, e vi ha persino depositato un piccolo modulo d'atterraggio file che si è fermato sulla superficie della cometa analizzandola. Il racconto parte dagli anni della preparazione della missione, degli anni 90, in cui abbiamo creato i sistemi di terra che servivano poi per il controllo missione, abbiamo creato il team, abbiamo seguito lo sviluppo della sonda che veniva costruita dall'industria europea, poi passa attraverso il lungo viaggio, dieci anni di viaggio, partendo con il lancio nel 2004, poi vari episodi come l'arrivo a Marte, l'attraversamento della fascia degli asteroidi, la lunga ibernazione prima dell'arrivo, dieci anni dopo, sette miliardi di chilometri dopo, l'arrivo all'obiettivo, che era il nucleo della cometa Churyumov-Kerasimenko. Poi i due anni intorno alla cometa, i momenti emozionanti dell'atterraggio di file, i tre giorni che file ha passato sulla superficie, fino all'epilogo che è stato il 30 settembre del 2016, quando abbiamo deciso di completare, concludere la missione nel modo più spettacolare possibile, facendo atterrare la sonda madre sulla superficie del nucleo. È stato un atterraggio che poi ha concluso in modo spettacolare e anche interessante scientificamente tutta la missione. È un racconto molto personale, è un racconto visto dalla mia esperienza di 20 anni lavorando a questa missione, parla del mio team, parla di tutti i momenti di gioia e anche di difficoltà che abbiamo vissuto in questo periodo, l'avvicendarsi delle persone che hanno lavorato attorno a me e è anche corredato da 11 intermezzi storici, scritti appunto dallo storico Amedeo Fegnello, che ripercorrono i millenni di quel rapporto che c'è stato tra l'umanità e le comete, dai caldei fino ad oggi, un rapporto di cui Rosetta non è altro che l'episodio più recente e forse anche quello più spettacolare.